Ormai da qualche giorno il Casarano non ha più un presidente. Le dimissioni shock di Gian Piero Maci hanno gelato la tifoseria salentina, che ora non può far altro che attendere sviluppi in merito, con la speranza che si raggiunga un risvolto positivo. Il padrone rosso-blu Antonio Filigrana si è intanto detto intenzionato a rilanciare il Casarano, riorganizzando presidenza e dirigenza con nuovi volti, nuovi nomi e nuovi partner commerciali. Il terremoto dei giorni scorsi pare sia dunque destinato a rientrare, ma per il momento titolo e categoria restano in bilico. Facciamo un passo indietro per ricostruire quanto accaduto pochi giorni fa. Sabato 28 maggio l'ormai ex presidente del Casarano Gian Piero Maci ha indetto una conferenza stampa di fine stagione, con lo scopo e l'intento di rassegnare a sorpresa le proprie dimissioni. Alle origini di questa scelta il clima che si era creato attorno alla società e le accuse di tradimento rifilategli. Maci ha poi chiuso, dicendosi certo che ci saranno imprenditori pronti a prendere il suo posto e portando via con sé anche gli sponsor che hanno sostenuto il Casarano nel corso di questa stagione. I rosso-blu salentini hanno strappato la salvezza diretta sul rotto della cuffia, chiudendo al 14esimo posto all'ultima giornata. Ora, sulla prossima stagione si nasconde un grosso punto interrogativo che solo il padron filograna potrà cancellare.